Il tuo carattere ha scelto te, nel tuo cervello si è formata un'energia con certe caratteristiche già dagli albori, quando non c'era ancora il cervello e quando eri una cellula fecondata. E se tu non seguissi il tuo carattere, saresti come una mela che si trova sbagliata, che si sente sbagliata, perché hai in mente di essere un'arancia. Sia l'arancia che la mela hanno il loro modo di stare in campo, con le loro contraddizioni. Vi parlo di Anti-Age, il nuovo numero, in edicola. Ho scelto un titolo che si ispira al grande psicanalista James Hillman, la forza del carattere. Hermann Hesse diceva che chi possiede coraggio e carattere è sempre molto inquietante perché gli sta vicino. Cosa dobbiamo imparare dalla maturità, dal diventare grandi? Non ad addomesticarci, ma a rispettare il nostro carattere. Così una signora mi scrive per dirmi che lei ha un'equipe di persone che lavorano per lei e spesso lei ha degli attacchi d'ira, quando vede che le cose non sono fatte bene, insomma esplode. Chissà perché tutti pensano che chi fa lo psicanalista o chi raggiunge dei livelli anche di successo, debba avere un carattere dolce, tranquillo, gentile, ma così si è addomesticato. Si è addomesticato. Anzi vi dirò di più che l'idea di modificare il carattere spesso è un tarlo che si sviluppa sempre di più negli anni. E un'altra signora, Francesca, mi dice sono sconfitta, mi sento sconfitta perché volevo essere una donna migliore con la mia famiglia, con mio marito. e ho detto semplicemente questo, signora ma lei è sicura che il suo marito sarebbe piaciuta con un carattere diverso? Eh ma lui mi dice sempre che gli sarebbe piaciuta una donna più geisha, mentre io sono più dura, aggressiva, tosta. Ho detto guardi amica mia che la signora ha 55 anni, che quando un uomo sta con una donna di questi anni e viceversa, è perché voleva incontrare proprio quel carattere. E' spesso fantastica che sia diversa, ma in realtà voleva proprio quel carattere, perché noi chi scegliamo come partner? Chi ha un carattere che in qualche modo porta fuori cose che noi non sappiamo vivere. Magari all'interno tu sei dolce, remissivo, mansueto, ti devi trovare una persona che invece sia una persona tosta, dura, quindi smettiamola con questa storia che stiamo con la persona sbagliata, perché se stai con la persona sbagliata prima o poi vieni via, ma comunque sia, strada facendo, work in progress, tu devi ricordarti del tuo carattere. Carattere vuol dire caratteristica, adesso voglio dire una cosa molto forte, forse tu non esisti, non si sa neanche se noi esistiamo, ma il tuo carattere ha scelto te, questo era il pensiero di Eraclito, il tuo carattere ha scelto te, nel tuo cervello si è formata un'energia con certe caratteristiche già dagli albori, quando non c'era ancora il cervello quando eri una cellula fecondata, e se tu non seguissi il tuo carattere, saresti come una mela che si trova sbagliata, che si sente sbagliata, perché hai in mente di essere un'arancia. Sia l'arancia che la mela hanno il loro modo di stare in campo, con le loro contraddizioni. Se pensi a un carattere senza contraddizioni, la tua vita è un aborto. Se accogli i tuoi scopi di ira, e se scopri nel carattere una ripetitività di atteggiamenti che magari non piacciono agli altri, allora strada facendo, via via che li accogli, non soltanto maturi, ma nascono dei doni che neanche ti aspetti. Soltanto chi rispetta il carattere può raggiungere risultati nella vita che portano la gioia di vivere, la felicità e il benessere. Buona lettura. Grazie.